Arriva finalmente anche in Italia l'iPhone 6, il megafonino di Apple che ha suscitato molta attesa ma anche qualche polemica. Non appena ha comprato, infatti, molti fan di Cupertino si sono accorti di un difetto di progettazione. Pare che lo smartphone di ultima generazione della mela morsicata si pieghi facilmente e che portato in tasca per molte ore possa comprometterne la funzionalità. L'allarme dei diversi clienti Apple è stato raccolto dal sito MacRumors e per verificare l'attenibilità di questo difetto, Unbox Therapy ha deciso di sottoporre l'iPhone 6 ad un test di resistenza. Come si vede in un video ormai virale, in effetti con un po' di forza si riesce a piegare la scocca del telefonino fino ad incurvarla visibilmente. Nonostante questo piccolo problema di progettazione rimane il fatto che in pochi giorni sono stati già venduti più di 10 milioni di telefonini. Non male Apple!